questa non è una vita facile mi sono fatto dei nemici nemici potenti ho messo in pericolo coloro che amo ma l'unica cosa che mi perseguita da tutta la vita è scoprire la verità sui miei genitori sei un ricercato Peter Parker non crederai a quello che dice la polizia mio padre ha 500 uomini che ti cercano 500? mi sembra un taggino eccessivo senti, se devi rubare una macchina non ti vestire da ladro di macchine hai scoperto il mio culto debole i coltellini tu chi sei? ci racconti un po' di sé mister Parker e cosa fa tuo padre Peter? non ho mai conosciuto mio padre i miei se ne sono andati quando ero piccolo Peter un giorno capirai hai detto al ragazzo la verità sui miei genitori Peter vieni a cercarla sei pronto a interpretare Dio? c'è stato un attacco biologico su New York Peter, i segreti non costano devo fermarlo credi che quanto ti è successo Peter sia stato un incidente? ma non tu hai un'idea di cosa sei veramente? Peter! ma non tu hai un'idea ma non tu hai un'idea grazie mille